Lotto a Cuba è morto infatti il leader massimo, soparano di Fidel Castro, ex presidente cubano che dal 2008 lasciò la guida della politica, il fratello di nome Raul, aveva 90 anni d'età. La notizia della sua morte è stata proprio il fratello Raul a darla in televisione a livello nazionale. Era il capo della rivoluzione comunista di Cuba, conquistò il potere nella famosa isola di Rantille nel 59 rovesciando la dittatura presente. Castro compì 90 anni il 13 agosto scorso e poi fu celebrato in pompa magna in tutto il paese, Cuba. Un personaggio carismatico, un personaggio di spicco per quanto riguarda la politica cubana che seppe ben interpretare tutti quelli che sono stati i principi e gli ideali di giustizia ma anche di libertà, secondo la mia opinione, che dovrebbero eserci in ogni nazione democratica. La sua salma, vi ricordo, quindi il suo corpo, vi ricordo che verrà cremato, quindi verrà bruciato. Grazie per l'ascolto. Il video termina qua. Fidel Castro riposa in pace.